Presso il Museo del Territorio è stato presentato in conferenza stampa il calendario per l'anno 2022, realizzato per celebrare Biella, città alpina dell'anno. 12 foto che immortalano le montagne e il prezioso patrimonio naturale biellese. L'assessore al turismo e alla montagna, Barbara Greggio, ha sottolineato più volte nel corso dell'incontro l'importanza nel preservare questi luoghi e creare un turismo responsabile. Il calendario potrà essere ritirato gratuitamente dai cittadini in alcuni punti del territorio, tra cui il Museo del Territorio biellese, le biblioteche civiche, il Santuario d'Europa e l'Informa Giovani di Biella.